Nessuno di noi ha mai pensato di trasformare Selle e la sua storia in una ridotta minoritaria o in qualche improvvisata costituente. Abbiamo sempre detto che era necessario lavorare ancora a quello che è stato il nostro progetto, cioè la costruzione di una sinistra in Italia più forte, più utile, più capace di cambiare i rapporti di forza in questo paese e pensiamo che per farlo sia necessario costruire una sinistra autonoma, che non vuol dire incapace di avere un dialogo con il PD, che non vuol dire una sinistra che parla solo a se stessa, che non si pone il problema del governo, una sinistra autonoma dal punto di vista culturale, che ha una sua proposta e che è in grado quando costruisce un'alleanza di farlo arricchendola e portandola dentro un di più e non un di meno.